La radio a pezzi Ma ora, ora, la radio a pezzi vi regala una gag dedicata al mondo dei calciatori e al mondo degli italiani che non sanno l'inglese Noi siamo pronti Insomma, proviamo Pronti? Siamo pronti Chi siamo? Sei pronto? Oh, good evening, Ward Allora, come state voi? Tutto bene? Bene, grazie Bene, bene, io sto molto bene Ah, poi abbiamo Matteo Cosar, coso dell'aggior mondo Cosar, è un po' importante Galbani, coso buono dell'aggior mondo Non si fa buongi graffi, non so, voglio dire Non si fa, non è che sbaglio Eh, scusi, ma tante cose Mi hanno detto, se non ho sbaglio, ma lei per caso era il suggeritore di Buffon durante la serata? Cioè... Certamente ha detto di metterle auricolari in suo ear E lui invece non ha fatto niente E lui ha detto... E lui ha detto... Io ho detto, se devo fare figure di merda... No, no, no Io paro tutto, paro tutto E ha detto, regista, palla allora Bravo, bravo E quindi voi... Ok Io suspend the ball Mi ha detto così E io ho detto, no, non è giusto Non è giusto E però invece Buffon ha proseguito nella sua direzione Esattamente Ha fatto una figura, come si dice in inglese Ma diciamo che ha fatto una bella figura del shit Qui era un pochettino... Dicendo così Sembra quasi una cosa bella Praticamente gli è un shit male C'era un po' di abbattantuona qui Un po' di città Questo accento Più che è anglosassone Lo trovo più Per un uccello Eh no, perché tu saprai che i saxon invece erano Grande gruppo musicale di metal Ok Non metal estremo Quella è un'altra cosa Secondo me hai parlato... Hai imparato l'italiano Con qualche personaggio Un po' strano Sì, secondo me in qualche paese Comunque io sono contento che Buffon ha messo faccia sua Perché se devo mettere la faccia mia Sempre fatto traduzione era pericolo Possiamo vedere per gli amici di Facebook La faccia di Buffon com'era poi Cioè era... no, vediamo, vediamo, vediamo Eccola qua Beh, direi disarmante Era terrorizzato Mi dispiace voi alla radio non potete guardare Ma abbiamo una bellissima foto di Buffon Ma I must admit that Buffon was without bird Ah ok Senza barba Senza barba La barba era quella che dicevo Barbra Streisand Va bene Ah si fermi qua, grazie Grazie E anche cantante Fantastico Lei si può intervenire durante la trasmissione quando vuole Guarda che il mio grande gruppo musicale Ai tempi Io ho fatto tutto il tempo punk Punk rock Tutto grande epopea punk rock Quindi da... Quindi un cantante Oltre il produttore fa il cantante Io ho fatto insieme a Sex Pistols Oh, grandissimi Grandissimi Anche Public Image Limited Sempre con Johnny Rotten Bellissimo Sembra così Sembra sempre Mi sto preoccupando Signori, volete interagire insieme a John? Come volete 34098 68174 La radio a pezzi Grazie 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 Grazie